Imparare per la vita e questo il tema individuato dal Ministero Beni e Attività Culturali per l'edizione 2020 delle Giornate Europee del Patrimonio. L'associazione ETA Entra nell'arte e l'archivio di Stato hanno tradotto questo tema nella riscoperta delle scuole di Pesaro che non ci sono più o che hanno mutato sede nel tempo. Attraverso la formula del Walkscape la Giornata del Patrimonio porterà a riscoprire come sono cambiati i luoghi dell'istruzione cittadini dopo l'unità d'Italia. Un viaggio frutto di un'accurata ricerca storiografica fra i documenti dell'archivio di Stato cittadino. Stiamo costruendo un percorso relativo alle scuole di Pesaro, alla nascita delle scuole di Pesaro nel periodo postunitario perché è un periodo estremamente interessante sia perché appunto c'è una spinta politica molto forte che porta in tutta Italia chiaramente ma anche a Pesaro a costruire scuole, a istituire luoghi di formazione e a Pesaro ha una sua peculiarità che cercheremo di raccontare appunto nel corso della camminata che riguarda sia l'architettura dei luoghi di istruzione e formazione che anche proprio il tipo di istruzione e formazione cioè per dirla adesso in breve appena sono nati i luoghi di istruzione sono luoghi in cui fondamentalmente si mirava ad alfabetizzare quindi il libro di testo era qualcosa da ripetere e questo era un obiettivo chiaro e forte delle scuole. Molto velocemente però diciamo i programmi ministeriali a livello proprio nazionale spingono affinché le scuole diventino delle scuole che si basano su una istruzione, su una cultura molto più radicata nel fare, nel comprendere veramente le cose non soltanto ripeterle. Il Walkscape partirà sabato alle 17 da Piazzale Matteotti e sfocerà nell'archiglio di Stato che ha allestito una mostra dei documenti delle scuole pesaresi post unità d'Italia. Mostra visitabile fino al 2 ottobre. Parliamo delle scuole del centro storico quindi gli esordi per esempio del liceo ginnasio Mamiani che ora si trova a due sedi in parte in via Gramsci e in parte al campus ma anticamente appunto aveva un'altra collocazione, un'altra ubicazione. Poi parleremo delle regge scuole tecniche, delle regge scuole speciali, dell'istituto tecnico Bramante, dell'Accademia Agraria che non era proprio una scuola ma aveva tra i suoi compiti quello dell'istruzione e per un certo periodo di tempo appunto dopo l'unità d'Italia ha gestito una scuola pratica di agricoltura che poi è confluita quasi naturalmente nell'attuale istituto Cecchi che ne ha raccolto l'eredità. Di molte di queste scuole siamo riusciti a trovare o i progetti originari oppure i progetti di ricostruzione a seguito degli eventi bellici della seconda guerra mondiale quando il centro storico di Pesaro è stato oggetto di bombardamenti quindi molte scuole sono state o riparate o riedificate appunto attorno agli anni tra il 40 e il 50.